Fedez cosa poteva fare per mettere a tacere tutte queste notizie che lo mettevano in cattiva luce? La figa! L'unica cosa che poteva fare era la figa, quindi ha uscito la figa. Fedez illusionista. Buonasera ragazzoni, benvenuti o bentornati in questa nuova puntata di Gossip Crime. In questo Gossip Crime ci concentreremo, diciamo, sulle cronache fedeziane. In particolare vi mostrerò in esclusiva il video ripulito e migliorato del pestaggio di Fedez ai danni di Cristiano Iovino. Quello stesso video che lo ha sbugiardato al 100% e che ha dimostrato quanto Fedez sia un bugiarolo che diceva Io non c'ero, io non c'ero, ve lo ricordate al salone del libro, non vi preoccupate perché se non ve lo ricordate ve lo riproporrò in maniera ripetuta. Cosa stiamo parlando? Io non c'ero. Io non c'ero. Così entra il vostro cervello quanto le persone dicano le bugie sapendo di mentine. Così hanno l'alito preso. Poi parleremo ovviamente anche della sua nuova fidanzata, della reazione di Chiara Ferragni alla nuova fidanzata, ma questo è puro gossip ragazzi perché ogni tanto bisogna anche spettulasse e basta. E poi torniamo sul Gossip Crime invece parlando dell'inchiesta che riguarda il furto del profumo da parte di Piero Plassino e anche il Papa e l'approciaggine. Perché il Papa ha fatto una gaff mondiale, internazionale, planetaria. Sono gli alieni che sono là, che ci guardano e dicono e quindi insomma dobbiamo parlarne ragazzi. Non è né Gossip né Crime ma ne parliamo nel Gossip Crime. Ragazzi dello YouTube, mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi Gossip Crime, su anche le notizie True Crime, i casi True Crime, tutte le cose che trovate su questo canale che sono tantissime. Mettete un like a questo video ma soprattutto raggiungetevi, raggiungeteci, raggiungetevi. Cominciate a girare in tondo e raggiungetevi. No, raggiungetevi, mi, miga, ah basta! Non so parlare! Raggiungeteci qui in live su Twitch ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 20. Vi aspettiamo, ci sono un sacco di belle personcione qua che scrivono che vi vogliono conoscere e c'è anche un gatto super sveglio sul testo che vi aspetta. Grazie! Vi ricordate quando si parlava dell'esistenza di questo video che testimoniava effettivamente la presenza di Fedez e dei suoi amici Ultra e l'avvenimento del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino e Fedez continuava a negare di essere mai stato lì presente. Addirittura gli Ultra hanno pubblicato quel comunicato attraverso la loro pagina Instagram in maniera molto istituzionale, molto elegante, devo dire, contrariamente alle caratteristiche per cui sono noti, in cui si dissociavano assolutamente da Fedez. Io vi dicevo, regà, ma se poi viene fuori questo video, che figura di merda ci fate? Piuttosto è meglio se state tutti zitti, Fedez, per primo. E' uscito il video, alla fine è uscito il video e quindi nonostante Fedez tramite i suoi legali abbia cercato di fare il possibile per mettere a tacere questa vicenda e credo anche che sia uscito alla scoperto con la nuova fidanzata proprio per mettere a tacere questa vicenda e invece noi continuiamo, noi ci diamo e ci diamo e ci diamo e non ci faremo distrarre parleremo ovviamente della sua fidanzata dopo, dopo. Quindi insomma è stato reso pubblico questo video, si vede chiaramente che si tratta di una spedizione punitiva vi ricordo che è avvenuta nella notte tra il 21 ed il 22 aprile sotto casa di Cristiano Iovino, il personal trainer dei VIP diventato noto per aver preso un caffè con Ilari Blasi dopo la rottura con Totti, si vociferava che ci fosse qualcosa tra loro ma questo non ci interessa. E nel video si vede chiaramente quello che in realtà ci è stato descritto finora dalla stampa ovvero effettivamente c'è un van nero dal quale escono queste persone prima tra tutte Fedez e il van nero è proprio il van di Fedez è quello con cui ogni tanto viene anche spaparassato in giro si vede Fedez che esce per primo dal suo van e va diretto incontro a Iovino che lo sta aspettando sulle strisce pedonali tra l'altro sappiamo che ci sono stati anche dei messaggi delle comunicazioni tra Fedez e Iovino per darsi appunto appuntamento e pensavano in qualche modo, cioè Iovino pensava di trovarsi davanti a una persona che volesse risolvere la questione tra loro due poi non so se Iovino era pronto a fare a botte con Fedez o era pronto semplicemente a parlare fatto sta che Iovino di certo si aspettava di trovarsi una persona sola davanti non essere accerchiato da nove bestioni che l'hanno menato a sangue e dopo vi faccio vedere proprio le immagini anche restaurate con lo zoom e tutto e si vede Fedez che va incontro a Iovino e prova goffamente a sferrargli due pugni ma Iovino lo manca miseramente dal che Iovino un po' si fa avanti cioè tipo schiva i pugni e poi va per andare contro Fedez a quel punto Fedez scappa come una femminuccia scusate femminucce no 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 niente voi sareste anche a sei anni avreste più coglione scusa sto dicendo un sacco di cose assolutamente antifemministe scusa non so perché mi è uscita la cattiva non volevo femminucce donne quei coglioni scusa fugge come una pippi calzelunghe qualunque e va a chiamare fa gesto ai suoi amici che intervengano e i suoi amici sono otto bestioni giganti facenti parte per l'appunto della curva ultra curva sud degli ultra del Milan tra cui svetta la guardia del corpo di Fedez Cristian Rosiello che loro si conosce benissimo tra tutti per la calvizia insomma lo si conosce Cristian Rosiello dopo lo vedrete anche nelle immagini è un ride veramente violento poiché Iovino in un primo momento indietreggia prova a sottrarsi poi nella disperazione si lancia contro i suoi aggressori che ovviamente lo circondano lo sovrastano sono nettamente in superiorità contro di lui e quindi lui subisce una scarica di calci e pugni in strada a cui lui da solo contro otto insomma cerca disperatamente di resistere non cerca neanche di contrattaccare cioè proprio le prende malamente beh coraccio cioè pure Batman li avrebbe prese da gente così ma rivuolo apposillanime è esattamente quello che ho pensato anch'io sì ma mi reclama dimmi dobbiamo guardare il video di Fedez ripulito in esclusiva e tutto stai concentrato dobbiamo girare la sedia quando vuole che lo caghi comincia a girarmi la sedia spinge la sedia così gira no e si diverte ah ragazzi lo scenario tra l'altro è palesemente quello di una spedizione punitiva perché non c'è stata nessuna discussione iniziale che giustifichi la violenza cioè non è che da dire c'è stato uno scontro tra lui e Fedez che se ne sono dette tutti colori quindi a quel punto è partito di nuovo un tafferuglio una rissa e però arriva Ivan lui scende boom subito violenza quindi è come appunto sostiene la procura una spedizione punitiva ma adesso guardiamolo qui il video lo vedete a velocità normale ma zoomato 4x ecco qui si vedono le due sagome di Fedez e di Cristiano e poi vedrete intervenire anche Rosiello ovvero l'ultra del Milan guardia del corpo di Fedez che poi si è portato dietro i colleghi insomma vedete com'è indietreggia come una pipi calze lunghe per non dimenticare ecco Rosiello è quello che interviene per primo e poi dietro come vedete tutti gli altri che andranno a pestare selvaggiamente il povero Iovino vedete il van il van nero di Fedez da cui stanno uscendo tutti e beh vedete così ripulito è già un'altra storia ma sai che cosa che mi ha fatto molto ridere è che subito dopo l'uscita di questi video in cui si vede palesemente che Fedez non c'è proprio vorrebbe fare il bulletto ma non ce la fa e quindi poi chiama i suoi scimmioni per dargli manforte mentre lui guarda tra l'altro quando Iovino viene pestato dagli ultra Fedez se ne sta un po' in disparte guarda cioè proprio da io provo a picchiarti non ce la faccio tu mi scrivi i colpi tu provi a colpire me scappo chiamo i miei bestioni che ti melano e ti guardo così a distanza cioè scusate ma è l'unica reazione possibile comunque andiamo avanti dando un contesto a questa storia perché per quel pestaggio che abbiamo visto tutti ormai a questo punto Iovino non ha mai presentato denuncia e non l'ha ancora fatto e sappiamo che nei giorni scorsi i legali di Fedez e Iovino hanno siglato un accordo mannaggia te Iovino veramente ti avevo detto di denunciare perché non ascolti bugaralla tua comunque hanno siglato un accordo con Fedez che si è impegnato a versare un assegno in favore della vittima allo scopo di evitare che Iovino formalizzi anche in futuro questa denuncia perché avrebbe tempo fino al 22 di luglio quindi Fedez si è comprato il silenzio di Iovino si vede che sono tanti soldi perché Iovino allora io se lo dico in un modo me lo correggete se lo dico in un altro me lo correggete quindi ho rienunciato a dare un accento tonico a quest'uomo ti prego Cristiano Iovino Iovino chiamami dimmi come ti chiami perché io non cioè non è tragico è tragico così deve essere una cifra notevole perché non è che Iovino Iovino sia quelle pezzarculo insomma è anche lui un tizio che gira nella Milano bene vive a City Life è il personal trainer dei VIP per cui deduco che siano ma molte molti soldi poi tenere per le palle Fedez secondo me non apprezzo però a quanto pare per Cristiano sì questa transazione economica secondo la stampa avrebbe lo scopo di fermare le indagini cioè lui non presenta la vittima non presenta denuncia indagini archiviate ma non è andata esattamente così perché la procura pare non essere assolutamente al momento intenzionata ad archiviare infatti è ancora al lavoro sul fascicolo aperto per Rissa che è un reato procedibile d'ufficio mentre l'accusa di lesioni e percosse probabilmente decadrà poiché si può procedere con questo reato soltanto con la querela della parte offesa ma per quanto riguarda la Rissa no i legali di Fedez vogliono usare la cavillità il cavillismo è anche il lavoro dei legali lasciate glielo fa i legali di Fedez hanno preso contatto con la procura sottolineando che quanto successo a Iovino non sarebbe una rissa perché in quel caso anche Iovino avrebbe dovuto tirare almeno qualche colpo si tratta di un pestaggio Iovino le ha solo prese poraccio quindi non avendo sferrato lui nemmeno un colpo contro i suoi aggressori non si può parlare di Rissa quindi a questo punto secondo i legali di Fedez è da chiudere tutto ma vi rendete conto dell'assurdità? una povera anima quella notte poi non so se sia povera anima anche il resto delle sue notti tuttavia non sferra neanche un colpo contro gli aggressori le prende tutte lui si mette così poverino per riuscire a essere danneggiato il meno possibile e siccome non ha sferrato nessun colpo indietro questa cosa gli ritorna in gulo perché non può la procura non può effettivamente procedere per Rissa ma poverino fino a un certo punto perché ricordo che si è fatto comprare lui cioè nel senso ma se andiamo avanti sempre così che la gente preferisce i soldi piuttosto che fermare una persona violenta e pericolosa perché i ragazzi una persona che organizza un pestaggio in questo modo è una persona violenta e pericolosa non stai facendo certo un favore alla società non mi hai ascoltato e hai preferito il danaro quindi insomma ora effettivamente quello che hanno fatto notare i legali di Fedez è vero ci auguriamo che la procura non si arrenda e che possa procedere perché un conto è Fedez che taccabriga con un altro in discoteca se le danno tra di loro vabbè dici stai un po' fumantino te sto lontano ma che dopo un evento del genere tu organizzi una spedizione con otto energumeni per far pestare a sangue quello che ha osato offenderti un'ora prima nel locale fa di te una persona davvero pericolosa altro che il pandoro di Chiara Ferragni cioè il pandoro di Chiara Ferragni e vabbè qui stiamo parlando di lesioni percosse spedizioni punitive bene in tutto questo Fedez siccome ha detto le bugie e spera che la gente se ne dimentichi e ormai abbiamo le prove palesi delle sue menzogne perché oltre ad aver staccato l'assegno per la vittima è anche uscito il video che lo inquadra chiaramente Fedez cosa poteva fare per mettere a tacere tutte queste notizie che lo mettevano in cattiva luce la figa l'unica cosa che poteva fare era la figa quindi ha uscito la figa infatti Fedez è stato avvistato nei paddock del gran premio di formula 1 a Monaco mano nella mano con quella che viene definita la sua nuova fidanzata e non si è proprio nascosto per niente cioè non è che è stato paparazzato di nascosto no no lo vedete vedere alla luce del sole davanti a tutti mano nella mano tra l'altro a destra potete vedere un video che è uscito ieri che riprende Fedez mentre la bacia la sluma questa ragazza in una discoteca di Monaco quindi insomma non si nasconde più lui è andato ha partecipato a questo gran premio formula 1 a Monaco che ha vinto la Ferrari ha vinto la Ferrari grande Ferrari vai la Roche comunque insomma lui era ospite sul maxi yacht di Leonardo del Vecchio che deve essere uno che ha i soldi penso che sia quello di Luxottica comunque ma non ne so molta fatto sta che era su questo yacht pieno di gente sborona ecco chi è questa ragazza che è con lui si tratta di una modella francese di 20 anni nata nel 2004 quindi veramente giovanissima una pulzella che si chiama Garance Othier e con la quale lui tra l'altro si dice esca da un po' in privato e proprio adesso ovviamente per caso non per un tempismo studiato e calcolato ma per caso proprio solo adesso è stato paparazzato con lei in pubblico quando escono già da marzo allora la prima fonte a pubblicare il video da cui è presa questa questa immagine è la pagina Very Inutil People che io seguo perché comunque ci sono spesso delle perle e nella caption scrivono una frequentazione che procede da qualche mese il primo avvistamento a marzo a Courchevel poi Parigi Miami Cocella e adesso Monte Carlo praticamente stanno facendo turismo sessuale adoro adoro no vabbè però è bellissimo viaggiare così tanto con la tipa nuova questo dimostra anche che Fedez è uno di quelli che va molto a chiodo perché ci provo ogni volta a dire questa frase quello che schiaccia i chiodi no quello perché subito dopo praticamente la rottura con Chiara Ferragni quando è che si sono separati che lui se n'è andato via a vivere da un'altra parte che è proprio valigie cose un attimo dopo già usciva con Garance per cui sì probabilmente non sa stare solo oppure mi è anche venuta in mente questa magari era l'unica amica single che aveva portata di mano che gli ha detto guarda ho bisogno di fare lo scoop ti prego vieni qui prendimi per mano stasera ci diamo un limone e almeno esce questo sui giornali accollatelo tu ti prendi la visibilità visto che lei sia una modella che lavora da tanti anni ma ha 18.000 follower su Instagram magari ne voleva di più lui in questo modo ha il culo sparato cioè ci starebbe anche questo ci starebbe anche questo cioè un doubt death questa è lei viene definita bionda oddio sì è un biondo un biondo scuro che lei accentua ovviamente con i colpi di sole ormai abbiamo capito che a Fedez piacciono quelle così cioè Ludovica di Gresi somiglia moltissimo a questa ragazza spero che somiglia perfetto però il tipo il tipo il fenotipo è quello ecco chiamiamolo fenotipo ma ti vedo proprio stanco si vede che hai lavorato tanto oggi è una telecamera c'è mais pieno di verifiche lo so vai metti davanti la scuola mi raccomando insieme il mio nome perché io ci devo essere devo essere riconosciuto Gresci e tutto il resto non è più adatto nessuno dei due ha né confermato né smentito la liaison però poi quando è uscito quest'altro video che li vede limonare come non ci fosse un domani in questa discoteca di Monaco direi che non ci sono troppi dubbi almeno sulla liaison poi non sappiamo se è una fidanzata o è un buco di trincea tuttavia c'è scambio di saliva guarda caso guarda caso lo scambio di saliva in pubblico arriva ovviamente ora ma tutti quanti si chiedono come avrà reagito Chiara Ferragni a questa notizia quanto pare in maniera molto sollevata cioè Chiara Ferragni sembra che il fatto che Fedez sia con un'altra l'abbia fatta rinsavire ulteriormente cioè della serie oddio così non c'è il pericolo che torni indietro le amiche di Chiara hanno dichiarato perché se hai sei amica di Chiara ovviamente dichiari no? sei là e hanno dichiarato che Chiara sarebbe rinata hanno usato queste parole molto felice è rinata dopo la fine con Fedez e che sapere che lui ha ricominciato con un'altra la rende ancora più oh 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 sì sì levati dal cesso un po' ci credo eh un po' ci credo ora sui giornali di gossip quindi si è parlato anche di questa reazione da parte di Chiara una reazione ovviamente sempre molto implicita perché lo sapete che Chiara lancia le frecciatine come quando si stavano separando che lei aveva fatto la foto senza l'anello con l'arcobaleno no? non è mai diretta nelle sue vicende personali ma in qualche modo vuole esprimersi e lo fa sempre in maniera un po' subdola diciamo e Chiara ha messo una foto con scritto fine settimana Madrid sempre un'ottima idea con i miei figli e le mie amiche al mio fianco grazie a tutti i miei fan spagnoli che ho trovato in questi giorni mi avete dato tanto amore e grazie Madrid per gli splendidi e per i bellissimi ricordi e sotto questa foto c'è una follower che scrive guarda visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti good riddance che vuol dire finalmente era ora Chiara ha messo un like questo commento ci ha aggiunto anche un cuore come dire guarda quello che hai detto mi piace assai ma tanto e poi c'è stata un'altra roba pubblicata da Chiara Ferragni su TikTok questa volta dove pubblica una foto con questa faccia non so come definirla questa faccia tipo è la faccia di Mao quando gli rompiamo le balle lo chiamo Mao facci la Ferragni Mao Mao vedi stessa faccia uguale si è la faccia di una che ne ha le palle piene sostanzialmente tipo oddio ma veramente un po' così poi ha scritto scrivete voi la caption ovvero date voi un titolo a questa foto ti mette a Chiara chiedo che ti copierò che a volte non so cosa scrivere nelle didascalie prossima a fatto che pubblico faccio mettere a voi la caption grazie Chiara Ferragni ci sono c'è questo commento che non so per quale motivo non l'ho trascritto quindi adesso me lo devo ringrosciare c'è questo commento che ha ricevuto il like di Chiara Ferragni che ha scritto finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colbo lei ci ha messo like no? questa è una delle caption likeate ma non è l'unica ce ne sono altre a cui lei ha messo like tra le quali il mio ex ha un'altra bambina da portare all'asilo lei ha messo like quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova allora non mi è piaciuta molto la la questione della scappata di casa la bambina a portare all'asilo perché lei non c'entra niente cioè prendersela con l'altra no non lo so mi è sempre sembrata una un calo di classica un sacco tenerezza però a un certo punto cioè a un certo punto sei non lo so avete quei ragazzini bambini che vogliono essere guardati dalla mamma perché la mamma gli dica che sono fortissimi ma non sono in grado non lo so vabbè fa ridere fino a un certo punto perché ripeto chi è in grado di organizzare spedizioni di quel tipo fa ridere fino a un certo punto perché dopo cominci a fare paura perché fame di infamia in qualche modo fame di vendetta fame di mi devo far valere più mezzi e strumenti per farlo uguale pericolo ma veramente insomma dopo le sue storie in cui picchia fortissimo sul ring dimostrando che lui in realtà sa tirare i pugni ma in quel video era così era il momento del cerbiatto insomma Fedez poi dopo ha pubblicato una storia su instagram con scritto dici che sono un bastardo solo la scritta bianca su sfondo nero ovviamente ovviamente molti si sono allarmati dicendo mio dio ora questa è la frecciata per Chiara Ferragni gli sta chiedendo le sta chiedendo se sono un bastardo oppure allora vi tolgo immediatamente il dubbio in realtà è una frase presa dal nuovo singolo che uscirà venerdì da suonare la canzone il fatto che lui abbia messo questa frase non è solo per lanciare la canzone è chiaro è sempre il gioco del subdolo un po' lo stesso giochino che fa Chiara Ferragni nell'esprimersi attraverso i like ai commenti che le piacciono dici che sono un bastardo più che una frase per Chiara Ferragni mi sembra una frase per tutti noi forello è caduto dal seggiolone poi dici dai dimmi che sono stronzo anche se faccio solo minchiate cioè è una ricerca di nuovo di questa sua nuova identità da bastardo da bad boy da tizio che fa erisse i locali e amico degli ultra e che si fa la modella ma poi vediamo che tra due settimane la cambierà sicuro perché deve essere bastardo lui la sindrome di Napoleone cioè quel dici che sono un bastardo vuol dire raga per favore mi dite che ce l'ho grosso vi prego almeno voi almeno voi lo so che avete visto il video dove dove sono un cerbiattino ma vi prego ditemi che ce l'ho grosso voglio averlo grosso comunque questa frase è contenuta nel testo della sua nuova canzone che ha fatto in featuring con Amy Schilla che si chiama Sexy Shop e il brano viene descritto così da chi ha avuto l'onore e il piacere di ascoltarlo in anteprima esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta i sentimenti contrastanti che si provano in una coppia paragonando l'amore a un gioco d'azzardo euforia e devastazione ma torna a leggere Twilight ma che palle cioè è finita la moda dell'amore tossico del oh mio dio ehm puoi sale mi fai bere con la mano mi trattiene il bicchiere cioè l'hanno già fatto ok cioè tante 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 basta amore tossico e poi stai sempre lì no a raccontare quanto sia importante lavorare sulla salute mentale e quindi sulle dinamiche anche relazionali che poi partono no dalla nostra salute mentale stiamo cercando di combattere fare consapevolezza rispetto a le persone che si ritrovano in delle relazioni tossiche e che indubbiamente subiscono o fanno subire danni psicologici e a volte spesso purtroppo anche fisici al parco che tu fai il paladino di tutte queste cose cioè più che altro della salute mentale e poi fai uscire testi di questo tipo cioè non invitiamolo più ai saloni dei libri per parlare di salute mentale nei giovani perché non mi sembra che ci tenga molto alla salute mentale dei giovani se poi porti avanti canzoni che alimentano il piacere delle relazioni tossiche e tra l'altro viene presentato questo singolo come il wannabe tormentone dell'estate ma io spero di no perché se il tormentone dell'estate è che bello l'amore che fa male come il gioco d'azzardo e cioè è inutile che stiamo qui a parlare di consapevolezza di come prevenire la violenza di genere come prevenire la violenza nelle relazioni e punta dell'iceberg a femminicidi ci sarebbe una frase all'interno di questa canzone che i fan comunque chi ha letto il testo attribuisce Chiara e la frase è l'amore non si fa nei sexy shop sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato KO dici che sono un bastardo ma per te non cambio va bene in tutto questo non vediamo l'ora che esca il singolo comunque Fedez forse in te ascolterei anche Zotico di Buga che ha un testo una ritmica che secondo me avrebbe qualcosa da insegnarti io non capisco no non capisco non sapevo parlare un discorso non sapevo fare curriculum non sapevo parcheggiare nello spazio non sapevo però io canto perché sono uno Zotico 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 ma sono figo sono uno Zotico 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 e vieni a tiro sono uno Zotico 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 ma è un grande tiro sono un poeto e lo dico su Facebook credo all'amore e lo dico su palco ho un nuovo singolo e me lo canto su radio mi fanno le foto perché sono un vero figo ma sono Zotico 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 ma sono un figo sono Zotico 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 e me lo dico sono Zotico 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 ma è un grande tiro Zotico 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 Secondo me è un'ottima lezione per Fedez questa canzone vorrebbe vorrebbe ispirarmi questa che è la mia foto preferita del Papa e vorrei tantissimo una maglietta con il Papa così che ti minaccia perché stiamo per parlare del Papa minacciosissimo infatti ha fatto scalpore ha dato vita ad un'infinità di meme ragazzi siamo andati a cercare i meme trovate delle perle bellissime la notizia che riguarda Papa Francesco e la sua frase che a suo dire voleva essere ironica pronunciata durante l'assemblea della CEI ovvero l'assemblea dei vescovi italiani la voce circolava già da una settimana ma un paio di giorni fa è uscita su da Gospia e soltanto ieri 27 maggio è scoppiata la notizia data come confermata è successo il 20 di maggio nell'incontro a porte chiuse tra Francesco e i vescovi italiani arrivati a Roma per l'assemblea generale stavano in realtà affrontando un tema molto serio che occupa da tempo le riunioni della CEI il dibattito era in che misura e se a mettere nei seminari i candidati al sacerdozio omosessuali quindi continuiamo ad accettarli o non li accettiamo più gli omosessuali e se li accettiamo in che misura dobbiamo accettarli e Francesco pur ribadendo il concetto di voler accogliere tutti ad un certo punto ha cercato di dire quello che pensa un po' a modo suo dicendo questa battuta sto contestualizzando e riportando le parole del Papa quindi Twitch sappi che contestualizzato ok? la battuta del Papa è stata nei seminari c'è già troppa frociaggine il Papa ok? il Papa la notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo ed è bellissimo leggerla sulla CNN allora the newspaper articles which were translated from Italian claimed the Pope had said there is too much frociaggine in some of the seminaries oh Dio esatto proprio io quando ho letto questa cosa sulla Siena e ho volato proprio ero Peter ero là così oddio mi sto stendo male anch'io poi cito dal Corriere direttamente le parole alcuni vescovi spiegano al Corriere che l'uscita del Pontefice è stata accolta con qualche risata incredula più che imbarazzo tanto era evidente la gaffa di Bergoglio l'italiano non è la sua lingua madre vai che lo parla meglio di me quando era ragazzo in famiglia parlavano più che altro il Piemontese e insomma sa c'entra il Piemontese e insomma era evidente che Francesco non fosse consapevole di quanto nella nostra lingua la parola sia grave e offensiva se come no come no il Papa non sa cosa vuol dire F parola brutta lui non lo sa che quella è una parola brutta capisci mi ha mai detto nessuno ma ovvio che lo sa il giornale qualche cosa di simile era capitato al Cardinale Victor Manuel Fernandez anche gli argentino e prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede che dieci giorni fa presentando le nuove regole sulle apparizioni si era lasciato sfuggire un fare delle cazzate cioè non c'è paragone ma veramente mi stai mettendo a paragone Victor che tra l'altro è un vescovo non è un Papa che dice fare cazzate che ragazzi c'è ogni prete anche proprio c'è il più piccoletto del paesetto dice tranquillamente cazzo cioè non credo che siamo ancora nell'ottocento i preti dicono le parolacce ma le parolacce sono una cosa gli insulti omofobi sono un'altra cosa ok c'è un abisso tra queste due cose e il fatto che le stiano paragonando come della stessa levatura della stessa gravità mi fa veramente schifo è l'esimo uscita del Papa che anche ai cattolici non piace e infatti mio prete bestemmia questo perché ha un rapporto vero con Dio e quindi ogni tanto ci si litiga normale normale poi in che senso ascoltano Lady Gaga o se lo mettono in un culo in che senso ce n'è troppa e infatti adesso ci arriviamo in Gretchen perché questo è anche un grandissimo interrogativo perché raga perché dal 2005 esiste una istruzione vaticana che dà le linee guida per definire i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali sto citando non possono essere ammessi coloro che praticano l'omosessualità presentano tendenze profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay quindi cari amici gay che volete diventare i preti per fare le orge sappiate che non potete farlo perché il clero vi sottoporrà a risonanza gay dermatica anzi gay darmetrica un complesso macchinario in grado di trovare la vostra gayaggine ovunque voi la nascondiate eh adesso non passate più non passate più al seminario eh voi che volete andare solo a pisellare spero io che andate solo a pisellare mi sto prendendo in giro eh ironia ironia il gay detector esatto una risonanza gay darmetrica cioè esattamente esattamente come ti misurano quanto sei gay cioè se sei un po' gay va bene se sei molto gay non va bene la scala 15 dei seminari sì cioè ma esattamente cosa fanno ti prendono lo spotify e guardano se ascolti eh Taylor Swift Lady Gaga se esatto se hai mai visto Priscilla la regina del deserto oh Felicia dove cazzo ci troviamo cazzo 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 posso avanzare un'altra ipotesi cioè un'altra idea ma perché anziché fare il gay gay d'armometro non facciamo un bel pedo d'armometro eh se sostituiamo questa cosa gay con pedo non sarebbe molto più efficace per esempio non lo so prima di accettarti al seminario vado a vedere che foto hai sul computer la tua cronologia le ricerche le cose ti metto in una stanza con dei bambini ripreso 24 ore su 24 e poi vediamo cosa succede insomma ragazzi ci sono state polemiche planetarie per cui sono in sorte anche moltissime e giustamente associazioni LGBTQ plus il papa quindi in seguito a tutto questo bordello si è dovuto scusare tramite un comunicato del portavoce vaticano Matteo Bruni posso dire che avrebbe fatto più bella figura se ci avesse messo la faccia c'è anche il suo profilo social cosa gli costava al papa farsi un video come Chiara Ferragni con una tuta grigia e i capelli sporchi e la ricrescita in cui diceva sono un coglione ho detto una stronzata una cazzata come ha detto Miguel e sono un coglione scusate mi è uscita questa cosa perché volevo fare il simpatico con gli altri vescovi perché so che sono anche loro omofobi e quindi sono un coglione scusate eccetera eccetera no lo fa dire il portavoce adesso io capisco che però vuoi essere il papa del popolo vuoi essere il papa vicino a tutti noi mettici la cazzo di faccia fratelli sorelle ho fatto un errore di comunicazione esatto io così lo volevo invece niente ha delegato al portavoce Matteo Bruni che dice papa francesco è al corrente degli articoli usciti di recente cerca una conversazione a porte chiuse con i vescovi della CEI il papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine riferito da altri guardate il sottotesto è al corrente degli articoli usciti di recente intanto gli ha visti gli articoli voi che scrivete gli articoli poi a porte chiuse quindi era una cosa che doveva rimanere dentro quindi c'è una sorta di sgridata ai vescovi che hanno fatto uscire questa cosa e poi ribadisce questo termine usato da lui ma riferito da altri come per dire l'hanno detto loro non è che poi sia per forza vero no? dovete sempre cogliere le minucce dei testi come ha avuto modo di affermare in più occasioni nella chiesa c'è spazio per tutti per tutti nessuno è inutile nessuno è superfluo c'è spazio per tutti così come siamo tutti adoro perché è il papa delle figure di merda cioè prima con questa foto no ma se tu mi tocchi mia madre io ho detto oh un pugno poi quando ha picchiato la fan cinese Francesco cioè vabbè ma ragazzi dobbiamo parlare di Piero Fassino e di come procede spoiler male l'inchiesta sul furto del profumo allora intanto qui abbiamo la carta avelina copia e incolla non si dice così vabbè avete capito della vicenda di Fedez io non c'ero io non ho mai fatto niente ma stacco assegni affinché il caso non vada avanti no ricordatevi che Fassino ha detto che lui quel profumo non lo ha mai rubato intenzionalmente che se lo era messo in tasca un momento per rispondere al cellulare e che lui è innocente avrebbe dimostrato la sua innocenza e invece adesso sappiamo che ha staccato l'assegno va bene ok allora il nostro cleptomane di Chanel preferito Piero Fassino per cui era stata aperta questa indagine per furto su denuncia del duty free dell'aeroporto di Fiumicino Terminal 1 furto risalente al 15 di aprile con immensa delusione devo dirvi che è possibile che Fassino non arriverà nemmeno a processo questo perché è stata avviata una trattativa tra i suoi avvocati e quelli della società che lo ha denunciato quindi Fassino staccherà un assegno in cambio del ritiro della denuncia questo va a confermare quello che io vi dicevo ovvero innanzitutto sta ammettendo di aver rubato quel cazzo di profumo quindi di nuovo non siamo sempre da quel per da quel melo anche perché ci sono dei video palesi ci sono quattro telecamere che lo riprendevano mentre faceva questa cosa quindi se lui era davvero così convinto di essere innocente andava a giudizio dicendo dai andiamo a giudizio così vediamo tutti quanti i video li pubblichiamo e vi faccio vedere che è stato un misunderstanding invece preferisce pagare per far tacere tutto e questo ci dà la conferma che l'ha rubato quel cazzo di profumo ma come dicevo non ha problemi di soldi secondo me Fassino perché se avesse avuto problemi di soldi non aveva tutti questi soldi per mettere a tacere una società tra l'altro non stiamo neanche parlando di un singolo stiamo parlando di una società e quindi torniamo al movente psicologico ovvero non ha rubato quel profumo perché non aveva i soldi per comprarlo l'ha rubato a mio parere torniamo sempre lì perché è un kink perché è un vizietto perché è un gioco per lui magari una scommessa con qualche donna o magari proprio un vero e proprio feticismo che ci sta sono sempre più convinta che sia questo questo è il mio meme preferito in assoluto è troppo bello onore e gloria a chi ha creato questo meme onore e gloria comunque ci fa sapere l'avvocata Francesca Tolentino che rappresenta l'ufficio legale della società in questione che a suo parere non verrà raggiunto questo accordo quindi può staccare tutti gli assegni che vuole ma la società intende andare avanti con le accuse grande duty free hai più palle di Jovino va sempre ovviamente se fanno quello che dicono di fare viene interpellata Francesca Tolentino dai giornalisti ma dichiara la società ha scelto fin dall'inizio di tutelare la riservatezza dei protagonisti della storia quindi oltre a dirci che non hanno intenzione di mollare questa denuncia per soldi non dice altro intanto sappiamo che Fassino deve essersi un po' squacquarao nelle mutande perché ha allargato il suo pool difensivo nominando anche un secondo avvocato Andrea Miroli del foro di Civitavecchia oltre al suo storico avvocato Fulvio Gianaria come sempre io mi auguro che le persone non si facciano corrompere dal denaro e portino avanti le loro cause soprattutto quando sono persone che non hanno bisogno di soldi ma noi abbiamo tanto bisogno di giustizia ma soprattutto abbiamo bisogno di vedere che la legge è uguale per tutti e che la giustizia non si compra sarebbe bello ogni tanto dare a noi del popolino qualche soddisfazione in tutto questo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi dello youtube ricordatevi di iscrivervi al canale di venire anche a trovarci qua su Twitch ogni martedì giovedì e domenica alle 20 vi mando tanto amore grazie per aver guardato il video per poter sopravvivere ed esistere lo stalker ha bisogno della vostra attenzione crea falsi profili per poter diffondere fake news e far credere alla gente che le sue bugie sono l'unica verità lo stalker contatta i vostri amici i vostri parenti e i vostri colleghi di lavoro con toni gentili per far credere di essere colui che li mette in guardia sul vostro conto lo stalker vi spia e vi fa spiare per avere quello che mai ha ottenuto realmente nella propria vita ovvero il controllo ricordate lo stalker si nutre della vostra paura della vostra frustrazione della vostra ira per cui grazie a tutti grazie a tutti